Voto A non è una semplice lettera ma la certificazione della qualità d'eccellenza assegnata all'Università di Padova. È il voto più alto, l'ha dato al BO niente meno che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca attraverso l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, ANVUR. 28 i certificatori che giunsero a Padova a metà novembre scorso analizzarono sul campo il lavoro degli organi di Ateneo di tre dipartimenti e di 15 corsi di laurea di varie tipologie, triennale, magistrale e a ciclo unico. Una valutazione in profondità, preceduta da un ampio lavoro sulla documentazione inviata dal BO a Roma. La fascia A, la più alta, è un risultato mai raggiunto finora da nessun Ateneo di grandi dimensioni. Risultato straordinario, il mio e l'orgoglio di un grande Ateneo, questo il commento del rettore Rosario Rizzuto, grandemente soddisfatto. Un risultato, ha aggiunto, che premia l'intera Università di Padova, frutto del lavoro, della costanza e della passione di tutti quanti formano la nostra grande comunità, persone alle quali va il mio ringraziamento. Il traguardo raggiunto non rappresenta per noi un arrivo, ma un punto di partenza per continuare a migliorare. L'Ateneo di Padova aggiunge una nuova perla di eccellenza a tutte quelle che, numerose e importanti, segnano le tappe della sua storia di otto secoli, così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. La forza del sistema Veneto è data anche dalla forza delle nostre università. Questo straordinario riconoscimento conferma l'enorme valore che hanno i nostri Atenei anche nel campo della ricerca e dell'innovazione. Così Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico.